Le Rage Art non tolgono più niente Esatto, soprattutto con così tanta vita Ormai è chiaro che sono state concepite come strumenti difensivi, non offensivi Esatto E' molto meglio Ci sono i Rage Drive per quello Soprattutto quando la vita è così alta, è molto meglio usare un Rage Drive Sì, esatto Ormai i Rage Drive sono concepiti come lo strumento offensivo per combo e danno Mentre le Rage Art sono tornate ad essere uno strumento difensivo per assorbire i danni Esatto Ancora con la... Missa sempre la combo, attenzione dal Rage Probabilmente il tempismo è troppo tardi Nuova stringa da parte di Rage Potrebbe riportarsi in... Attenzione, schippa finalmente da 1 più 2 Bode, vediamo Potrebbe riportarsi in vantaggio e magari sull'1 pari riuscire a... A giocarsela A giocarsela Bode è al limite della sua vita Esatto Preferisce stare alla larga ormai Hopkick Hopkick ma non va e quindi 1 a 1 Se la gioca tutta 1 pari Buono rematch Istantaneo Nemmeno un secondo ragazzi Pazzesco 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 Oh però con l'Armor Subito Ancora con l'Armor Bode forse è intuito come gioca 6Vision Vediamo un po' Buono l'FF2-1 Da parte di Asuka Vite più o meno pari Ancora Asuka che si porta in vantaggio con un po' di pochi Ancora che non conferma la seconda parte del VS4-1 più 2 Probabilmente l'1 più 2 senza i tassi settati Non è così facile da fare da boss Uh si abbassa Sul DF1-2 di Leo Direi che un launcher o un qualsiasi colpo può concludere il match Però si visiona il vantaggio della Rage che però non riesce a sfruttare Tra l'altro il colpo del Rage Drive di Asuka è un pugno che butta a terra molto simile a V1 di Brian E al di V1 più 2 di King Sì Però non so l'input Credo che sia FF1 più 2 FF1 più 2 Perché la mossa originale è FF1 Ok quindi può essere Così come c'è V1 più 2 per Brian Uh buono l'occhio Sbaglia Probabilmente sta condizionando Silvia Ancora col trottolino Silvia che prova ad andare all'attacco Attenzione col counter Ma ahhh Grande basso da parte di Bode Che riesce ad essere più veloce Di Silvia che adesso ha E quindi Bode adesso ha 3 match point Asuka ancora all'attacco Interrotto però da Leo Buono il basso Troppo forte quel basso Oggettivamente è troppo forte Tenta ancora la stessa Vediamo non riesce a raccogliere il tot Non punisce Oh Stringa completa da parte di Asuka Attenzione tra il B1 Ma non c'è la cosa Ma basta Basta lo stesso Basta lo stesso con 1-4 Finire tutto Bode vince 2-1 E va avanti nella loser bracket Esatto Adesso vorremmo vedere Prossimo match Django contro Hybrid Django contro Hybrid Military Io volendo tu condividi lo stream e avrebbe farlo dentro del live della pagina può fare l'OBS può fare un multistrime l'OBS può fare un multistrime il stream di doccano tutto il stream di doccano l'OBS 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 adesso troviamo Django contro Hybrid Military è l'ultima partita del primo turno di Winnerblanket I due ragazzi prima non potevano giocare A causa di impegni nel torno del tag Ancora come stage Lo stage è infinito Abbiamo Django con Dragunov Hybrid con Brian Due personaggi molto molto forti a questo gioco Entrambi possono dare il meglio di sé Sia in campo aperto sia A muro quindi lo stage non li condiziona troppo Subito parato Il basso a parte di Brian Ancora con i bassi Ancora con le gioco del tag È normale Dragunov cerca di recuperare Entra l'FB2 e c'è subito il primo round da parte di Hybrid Subito Dragunov all'attacco Ancora Senta con i bassi Buono counter Vediamo se riesce a raccogliere Sì c'è Juggle Ah manca l'ultimo colpo Prima del nuovo bound Non si abbassa sulla stringa Dragunov Adesso è Hybrid che prova ad attaccare di nuovo Vediamo Solta il vantaggio Dragunov Sì Buona la stringa Corsa 2 Vediamo se riesce a sfruttare il float Vediamo Sì si porta sull'1-1 Ottimo recupero sul db2 in aria Devo commentare Non male Ottimo gioco Ottimo gioco Funzione Brian Sempre l'attacco C'è il counter da parte di Dragunov Più 19 Mamma mia che roba Non c'è la combo da parte di Hybrid Non punisce Probabilmente si scopre QCF2-1 Probabilmente si scopre Ma non sappiamo quanto Esatto Purtroppo non sappiamo niente Il gioco è nuovo La stringa è nuova Quindi Ancora con i bassi Dragunov Tra l'altro Molto Temerario Django Nel suo Stile di gioco Stessa quantità di vita Django che si porta a casa Il round con la armor Ancora aggressivo Dragunov Buono counter Non c'è la combo Una nuova stun Esatto Lo stesso stun Di Di B2-1-2 Mi sembra La mossa è la stringa alta Corpi di Draco Probabilmente lì c'entra giù Sulla stringa alta Andiamo Hybrid Un pochino in difficoltà Un pochino in difficoltà Però Oh Para il basso Django si porta a casa Il primo round Para la snake edge L'angolo dei serpenti Quanto è bella l'intro di Brian Bellissimo Che lancia la trave Bellissimo Che non so se hai notato che Koeman è una simile con un tonno Esatto Koeman è un po' trolla Perché ha L'entrata di Brian E la unisense di Lars Esatto 2 QCB3 di fila Django ricambia con I giù 2 I giù 2 E corsa 2 2 è il tasto più usato da Django Esatto Ancora con la corsa Non riesce però Nell'ultimo tentativo Parte il Il counter Da parte di Brian Ma non è in grado di Django non ha paura Di Hybrid Assolutamente E si porta a casa Il primo round Con tutti i corsa 2 Che gli fanno in faccia Non ha minimamente paura Ma soprattutto con tutti i bust Che tirano nonostante L'ordital di Brian Esatto Vuol dire avere un gioco Molto aggressivo Uh attenzione Hybrid deve un attimo Adattarsi Squatersi un pochino E aumentare un po' la pressione Sta rispettando troppo Django Oh Attenzione la spazzata Niente Non riesce a convertire Con le nuove combo Cade ancora No Neanche Giù 2 Entra questa volta Probabilmente entra solo QCF4 C'è comunque La chiusura da parte di Brian 1-1 Buono GF1-4 Inizio round Encounter Ancora che entra LFB2 Da parte di Brian Non riesce però A convertire in jungle Non c'è la punizione Buona la parata Sulla spazzata Riesce a convertire Vediamo Rageart addirittura Secondo me Molto suecata Avrebbe fatto meglio Molto meglio A fare un rage drive Un pestone garantito Rage drive Spallata C'entra anche la spallata Molti più danni Un pestone spallata Certo Molti più danni Così invece Sono ottimizzato La pressione continua Attenzione Non ha paura Non ha paura Della rageart avversaria In qual caso Probabilmente è sicuro Nella poca esperienza Di hybrid Nel gioco Esatto Non che lui Ne abbia molta Di più Vediamo Se c'è la combo Sì Quella del tag Non è abbastanza Rimane a terra Dragon Ancora Django Con la combo Ottimizzata Buono il danno Sembra avere Molto più conoscenza Del gioco Django è pronto Ad un corsa 2 Lo vedo Lo vedo Punizione con Rageart Riesce No Troppo lenta Non c'è la punizione A parte di hybrid Attenzione Non c'è punizione Non riesce a punire Troppo lento Corsa 2 Un altro corsa 2 Esatto Quello era un corsa 2 E questo errore Di esecuzione Gli costa il round Perché hybrid Si era passato Al final round Ancora col pressing Dragon Ottimo step Buonissimo step Ha dimostrato ancora Di non avere paura Di quasi direggere La mente Della versata Non riesce però A parare la spazzata Ma hybrid Si vede che ha Molti problemi A convertire Il proprio gioco Stal tag al 7 Non punisce 1 più 2 1 di Brian Attenzione però Serie di bassi Vediamo Siamo vicinissimo Entra in rage drive Che basta E porta jungle Sul 2 a 0 Ah We will Like to see The 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 Hybrid Hybrid Rimani nella postazione Hybrid Rimani nella postazione Fury 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 The Best Fury The Best Contro Hybrid Nel Nel Loser Bracket Questo è per l'eliminazione Abbiamo subito Hybrid nella Loser Bracket Quindi giocherà Di fila Contro Fury The Best 2 2 Ito 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 3 Hybrid con nuove conoscenze Cambia personaggio Esatto, cambia personaggio Non è un problema Userà Jack Jack che forse Ha un'impostazione più semplice di Brian Vieni qua Claudio Siamo bellissimi però Guarda, guarda le ciambe Le ciambe che laggano Sì Abbiamo il mio contrario ma fa niente Dopo li cambiamo Siamo così in verità Ma guardiamolo bene Siamo nel Duomo di Sirio Il Duomo di Sirio Il Duomo di Sirio Che la luce disperda le tenebre Al di là di quello È lo seggio ufficiale del torneo Il Battle Doom Quindi è il Duomo Hybrid che citando È passato a Jack per provarlo Così almeno li provo tutti e due Attenzione alla Rage Non entra 1-0 Vediamo Jack Ancora aggressivo C'è il counter da parte di Kazuya Che il cambio a Jack sia stata un'ottima decisione Vedremo Che god Oh Oh Grazie.